Frantoio leari riaperti in occasione del Natale. L'iniziativa firmata da Soproli in collaborazione con la provincia di Bari, il consorzio di tutela della DOP barese dell'olio e l'istituto alberghiero Perotti. Obiettivo coinvolgere i consumatori in un percorso del gusto e della conoscenza, apprezzando direttamente l'extravergine dentro i luoghi di produzione. In tre anni nel barese si è registrata una crescita esponenziale dei quantitativi da 2,5 milioni ad 8 milioni di bottiglie certificate. Entrando nei nostri Frantoio, nelle nostre cooperative, possono loro tranquillamente giudicare e guardare dal vivo quello che è la realtà di questo prodotto. Sotto questo punto di vista, in merito anche alla qualità, come sta andando questa annata? Proprio nella zona di Andria, Corato, Ruvo, Trani, dove c'è una grande importanza, diciamo, una grande rilievo di irrigazione, dal punto di vista qualitativo non abbiamo problemi. Lì dove manca abbiamo problemi, si sente diciamo dal punto di vista qualitativo, la siccità si sente e quindi il prodotto ne risente. Il presidente Schittulli ha ribadito l'importanza della dieta mediterranea e del consumo di olio in chiave antitumorale. La campagna auspicato va estesa alle scuole e ai bambini. Per i produttori tuttavia c'è l'esigenza di insistere sulla promozione del prodotto pugliese ai primi posti per la produzione in Italia e anche per la qualità.